cosa ne sarà di serena bortone e del suo programma in rai i vertici di viale mazzini fanno lo sgambetto alla conduttrice i rapporti fra serena bortone e la rai sono ormai tesissimi i vertici di viale mazzini hanno finalmente deciso cosa ne sarà del programma della nota conduttrice nell'ultimo anno serena bortone ha avuto a che fare con la chiusura di oggi è un altro giorno suo programma di grande successo e con la presunta censura da parte della rai al monologo di antonio scurati che sarebbe dovuto andare in onda il 25 aprile attualmente la bortone conduce in rai il programma che sarà nel weekend a lei infatti spetta la programmazione del sabato e della domenica ora però sta per succedere qualcosa di inaspettato purtroppo gli ascolti della trasmissione non sono ottimi il sabato serena bortone raggiunge il 4 per cento mentre la domenica il 5 dopo il caso scurati la rai sarebbe pronta a presentare il conto alla conduttrice cosa succederà serena bortone fuori dalla rai ecco cosa succede al suo programma stando a quanto dichiara repubblica dal prossimo anno serena bortone potrebbe vedere il suo programma letteralmente dimezzato che sarà infatti dovrebbe andare in onda solamente il sabato con un unico appuntamento e non con la doppietta che prevede la messa in onda anche di domenica il quotidiano parla così di ciò che sta accadendo in rai impossibilitati a cacciarla come pure era loro intenzione per non essere accusati di voler imbavagliare l'informazione la caporedattrice di rai 3 dovrebbe comunque rinunciare a una delle due serate in cui è suddivisa la sua trasmissione e ancora che a partire dal 14 settembre tornerà in onda ma solo al sabato guarda caso quello che in termini di ascolti fa peggio un punto in meno il 4 per cento di share medio rispetto al 5 e passa registrato la domenica entro oggi 7 giugno 2024 i vertici di viale mazzini avrebbero dovuto decidere le sorti del daytime della programmazione del prossimo autunno inverno qualcosa però è andato storto e invece un po' per i ritardi accumulati un po' per evitare polveroni alla vigilia del voto europeo la scadenza è stata posticipata di una decina di giorni ma se il destino di che sarà dovesse davvero andare incontro alla prospettiva fatta da repubblica cosa ne sarà di serena bortone chi sostituisce la giornalista la conduttrice e giornalista quindi potrebbe essere sostituita la domenica al suo posto potremmo vedere luisella costamagna in questo caso quest'ultima potrebbe essere in qualche modo promossa prima della partecipazione a ballando con le stelle dove ha vinto la showgirl era reduce dalla conduzione non brillante di tango il talk aveva oscillato fra il 2 e il 3 per cento di share le logiche della rai in questo caso sono inspiegabili ma quel che è certo è che serena bortone verrà colpita dalle decisioni del servizio pubblico